Gesù prima ancora di farci vivere, lui dice, io sono già passato, io sono già passato attraverso i tuoi bisogni, ti ho già salvato. Ecco, chiediamo davvero oggi al Signore di vivere da uomini misericordiosi. Questo significa avere uno sguardo di misericordia, cioè avere quello sguardo di chi dice, io ho ricevuto tutto, ora per me è il tempo di dare, di donare. Ecco che cosa significa misericordia e non sacrificio. E allora il restituire, il senso di avere questo senso di riconoscenza, restituire tutto perché abbiamo ricevuto tutto, il Signore ci ha già dato tutto, dobbiamo solo restituirlo con amore ai nostri fratelli e sorelle che Lui ha posto accanto a noi.